Il forum dei beni comuni è un raggruppamento di movimenti, comitati e associazioni che hanno assunto i beni comuni come un valore da tutelare e da affermare. I beni comuni offrono anche modelli di socialità e gestione dell'economia alternativi agli attuali. La privatizzazione invece trasforma in proprietà private i beni di tutti e per tutti. Il risultato è l'aumento delle diseguaglianze e la distruzione dell'ambiente. Questa è Genova, la nostra città, che si stende in una striscia di terra fra mare e monti. Genova è una città dove circolano quasi esclusivamente mezzi pubblici, l'aria è pulita e il traffico scorrevole. La raccolta della spazzatura avviene porta a porta in modo differenziato e i diversi rifiuti sono trasformati in nuovi materiali, in fabbriche tecnologicamente avanzate dove lavorano migliaia di abitanti. Una cintura agricola e di orti circonda l'abitato, fornendo prodotti freschi, in gran parte biologici, per il consumo della popolazione. I lavoratori pubblici sono numerosi, motivati e organizzano i diversi servizi locali, i servizi pubblici locali, in modo integrato tra loro per garantire equilibri economici, ecologici e giustizia sociale. I piccoli centri che gravitano nell'area metropolitana sono accoglienti e ricchi di iniziative sociali e culturali. Tutta la popolazione partecipa alla vita urbana ed è coinvolta attivamente nelle scelte dell'amministrazione civica. Purtroppo questo era un sogno ad occhi aperti. La realtà è molto diversa, come tristemente ci ricordano queste immagini. I vari servizi gestiti dalla mano pubblica sono spesso caratterizzati da un'efficacia modesta rispetto alle funzioni da svolgere e alle esigenze della popolazione e da efficienza scarsa o nulla, cioè un rapporto squilibrato fra ricavi e costi. Con la caduta della Prima Repubblica, Mani Pulite, la svalutazione della Lira del 1992, si andò affermando l'idea che tutto il settore pubblico fosse caratterizzato da trasandatezza e inefficienza e che per risanare l'Italia sarebbe stato necessario affidare la gestione ai privati, efficienti per definizione. In particolare, i servizi pubblici come l'acqua, la gestione del ciclo dei rifiuti, i trasporti, la telefonia, sarebbero migliorati se sottoposti alla concorrenza e alla ricerca del profitto. Perciò, in pochi anni, fu svenduto tutto l'immenso patrimonio pubblico industriale, bancario, infrastrutturale e avviata la privatizzazione dei servizi pubblici locali con la trasformazione delle aziende municipalizzate in società per azioni. A Genova, questo percorso è stato completato in un solo caso, l'acqua. Da azienda municipalizzata a divisione di una grande holding finanziaria, IREN S.P.A. Una società che non produce niente di utile, ma centralizza i flussi di denaro e il potere che ne deriva. Amga, azienda municipalizzata a gas e acqua, nasce nel 1922 per distribuire elettricità. Poi, dal 1937, comincia a gestire anche alcuni acquedotti. Era la migliore, la più redditizia tra le società di servizi del Comune di Genova. Nel 1995 viene trasformata in S.P.A. e l'anno seguente quotata in borsa. Successivamente, Amga decide che i diversi rami di attività diventino società separate e nel 2000 nasce Genova Acque. Questa diventa nel 2006 Mediterranea delle Acque, assorbendo anche gli acquedotti Nicolai e Deferrari Galliera. Nel 2010, l'assetto proprietario di Mediterranea delle Acque si consolida, come ancora oggi lo troviamo, su due proprietari. IREN, con il 60% delle azioni, F2I, con il restante 40%. Intanto vediamo che il settore dell'acqua è tuttora molto redditizio. Mediterranea delle Acque, tra il 2010 e il 2012, ha realizzato 47,8 milioni di utili e ha distribuito 65 milioni di dividendi ai soci. Ma insomma, chi è Mediterranea delle Acque? Cosa contengono le due sigle proprietarie? IREN SPA, che detiene il 60% della proprietà di Mediterranea delle Acque, è una multiutility quotata alla borsa italiana, alla quale fanno capo 5 società operative. A sua volta è posseduta per un 60% da enti pubblici, i comuni di Genova, Torino e quelli emiliani, Parma, Piacenza, Reggio. Mentre il restante capitale, 40%, è di proprietà di alcune banche e di numerosi investitori istituzionali, cioè società che hanno come attività esclusiva la gestione di denaro, fondi di investimento, fondi pensione, finanziarie ed altri. F2I, che possiede il restante 40% di Mediterranea delle Acque, invece, è tutta finanza. Cassa depositi e prestiti, Unicredit, una banca d'affari americana, Merrill Lynch, Cariplo. Complessivamente, la componente finanziaria privata detiene il 64% delle azioni di Mediterranea delle Acque. Perciò, due terzi dei dividendi vanno alla finanza privata, un terzo agli enti pubblici. Vediamo il ponte di Cavassolo, opera pubblica costruita nel 600 dalla Repubblica di Genova per portare in città l'acqua del Bisagno. Sotto, la diga del Brugneto, costruita negli anni 50 del 900 dal comune di Genova, togliendo decine di milioni di metri cubi d'acqua al corso del Trebbia e all'agricoltura piacentina. Oggi, noi non sappiamo che fare di una riserva d'acqua voluta per una città di un milione di abitanti, con i tal Sider che consumava 10 milioni di metri cubi. Invece, la Val Trebbia e l'agricoltura piacentina, a maggio, sono già in allarme siccità, mentre l'invaso è pieno fino all'orlo. Questo perché quell'acqua non è più pubblica, ma è di Iren, a cui è stata regalata per la misera cifra di 12 milioni di euro dal comune di Genova nel 2003. La targa che leggete è stata apposta il 30 giugno 2013, nel corso di una manifestazione dei Comitati dell'Acqua di Genova e Piacenza, per ricordare il decimo anniversario di quella pagina nera, le cui conseguenze però si protreranno chissà quanto nel tempo. Si tratta qui di una valutazione effettuata nel 2010 dalla Corte dei Conti, circa le operazioni di privatizzazione dei servizi pubblici fino ad allora realizzate. La Corte rileva che sono stati i costi crescenti dei servizi, quelli pagati dai cittadini, e non l'incremento di efficienza ad aver accresciuto gli utili delle aziende pubbliche privatizzate. L'altro caso di privatizzazione completa, poi risolta, è quello del trasporto pubblico urbano. Nel 1965 il comune di Genova, già azionista di maggioranza della società UITE, Unione Italiana Tramvai Elettrici, ottiene il totale controllo e la trasforma in AMT, acronimo di Azienda Municipalizzata Trasporti. Era nel frattempo cominciata una profonda trasformazione dell'azienda, che porterà allo smantellamento di tutte le linee tramviarie sostituite con filovie, anche queste poi smantellate definitivamente negli anni 70, e con autolinee. Nel 1999, a seguito di nuove norme che impongono l'affidamento del servizio di trasporto pubblico tramite gara d'appalto, l'azienda viene trasformata, pur mantenendo l'acronimo AMT che significa azienda mobilità e trasporti, tornando ad essere una società per azioni, seppur controllata al 100% dal comune di Genova, concessionaria del trasporto pubblico urbano. Nel 2004 i servizi di manutenzione dei mezzi e degli impianti passano alla nuova società AMI, azienda mobilità e infrastrutture, anch'essa di proprietà del comune di Genova, insieme alla proprietà delle autorimesse e delle officine di manutenzione e insieme all'immenso debito accumulato negli anni. Quindi nel 2005 il 41% di AMT, così ripulita, viene acquisito da TAG, a sua volta controllata per il 95% delle azioni della società francese Transdeuve. Nel 2008 AMI, che aveva intanto ceduto una cospicua parte del suo patrimonio immobiliare e strumentale, a copertura dei debiti consolidati, viene posta in liquidazione, mentre Transdeuve restituisce le sue quote al comune di Genova nel 2011. La società francese, che per qualche anno è stata socia di AMT, ci è costata cara. Per contratto ha ottenuto ogni anno milioni di euro di consulenze e quando se n'è andata ha riavuto l'intera cifra originariamente investita, oltre 20 milioni di euro. Questa privatizzazione si è perciò fermata al primo passo, la trasformazione dell'azienda municipalizzata in società per azioni. In assenza di una coerente azione a favore del trasporto pubblico, quando la priorità è invece data al trasporto motorizzato privato, a quattro e a due ruote, i risultati sono quelli che vediamo. Trafico caotico, aria inquinata, spostamente rallentatore. Il grafico mostra la quota di spostamenti coperta dal trasporto pubblico, ma forse l'ingresso di un socio privato nella gestione delle aziende pubbliche potrebbe migliorare le cose. Vediamo cosa dice la Corte di giustizia europea. Una sentenza lapidaria. Non richiede commenti. Sono numerose le aziende che compongono il panorama dei servizi urbani genovesi, molte di queste disastrate ancorché trasformate in società di capitale, perciò avviate sulla strada della privatizzazione. A parte l'acqua, il Comune di Genova ha ancora la possibilità di cambiare il percorso che ci ha portato in questa situazione. Infatti, il gruppo Comune si compone di una molteplicità di soggetti e la civica amministrazione di Genova ha ancora nella sua completa disponibilità le aziende che gestiscono i rifiuti, AMIUSPA, il trasporto pubblico, AMTSPA, la manutenzione dei parchi, delle strade e l'illuminazione pubblica, Aster S.P.A. La società Sporting Genova S.P.A. è stata invece posta in liquidazione nel 2010. Altre società a proprietà comunale, ossia Bagni, Bagni Marina S.R.L., Farmacie, Farmacie Genovesi S.P.A., l'azienda Servizi Funebri ASEF S.R.L., Genova Parcheggi S.P.A., Job Center S.R.L., Società per il Patrimonio Immobiliare S.P.I.M. S.P.A. La delibera presentata dalla Giunta al Consiglio Comunale il 17 luglio 2013 era esplicitamente orientata alla privatizzazione di cinque società. La forte opposizione dei lavoratori delle aziende, della cittadinanza e di una parte del Consiglio Comunale hanno provocato il rinvio del voto finale di quattro mesi, ma vediamo insieme a cosa dice, in sintesi, la delibera infine approvata. Bagni Marina e Farmacie. Queste aziende potranno essere cedute in assenza di equilibrio economico-patrimoniale nel medio periodo. Amiu. Si ipotizza di poter acquisire un socio privato, mantenendo la maggioranza in capo al Comune, per mettere l'azienda in condizioni di competere sul mercato e di operare non soltanto a servizio della città. Aster. È richiesta all'azienda la predisposizione di un piano industriale entro dicembre 2013. AMT. Si richiede la redazione di piano finanziario e strategico in funzione degli addempimenti derivanti dalla legge sul trasporto pubblico locale e dall'avvento della città metropolitana. Tutte devono La situazione economica è insostenibile. Il problema si ripresenterà a breve. È prevista invece la vendita di una quota di AMIU, il boccone pregiato che interessa molto a IREN. La privatizzazione delle aziende pubbliche è un percorso a tappe, di cui la trasformazione in società di capitale, regolate dal diritto privato, è il primo passo. E, nel nostro caso, questo è già stato compiuto, da molto tempo. Stiamo perciò rotolando lungo un piano inclinato, che conduce il patrimonio pubblico nella direzione del privato. Per comprendere meglio le conseguenze della cessione dei servizi pubblici locali, esaminiamo un attimo i risultati operativi dell'unica azienda che ha completato il processo di privatizzazione, Mediterranea delle Acque. Come abbiamo già detto, nel triennio 2010-2012, Mediterranea delle Acque ha conferito ai soci dividendi di oltre 17 milioni di euro, eccedenti gli utili. 42 dei 65 milioni distribuiti sono andati a società finanziarie. Contemporaneamente, la società non ha effettuato investimenti congrui per l'efficientamento del servizio, né per la riduzione del consumo di acqua. Le perdite idriche, indicatore dello stato di manutenzione delle infrastrutture, sono nello stesso periodo aumentate. È evidente come questo modello funzioni a senso unico. Grazie alla privatizzazione di un bene comune indispensabile, l'acqua, si realizza un continuo trasferimento di denaro dal territorio alla finanza. Questa società gestisce di fatto una rendita sicura, il servizio idrico alle popolazioni, ottenuta grazie all'influenza politica. Finanza e politica sono così intrecciate da non potersi più distinguere in un sistema di porte girevoli che vede le stesse persone passare da un ruolo all'altro senza soluzione di continuità. Bisogna cambiare nella direzione di un modello di sviluppo che sia sostenibile a livello locale e globale. Vi sono ragioni di ordine ambientale, l'impronta ecologica del nostro paese e più in generale del pianeta Terra. E di ordine sociale, l'impoverimento di ampi strati di popolazione e la crescente disuguaglianza testimoniata anche dai recenti dati ISTAT. Oggi in Italia il 10% delle famiglie possiede quasi il 50% del patrimonio complessivo. Bisogna cambiare. Cambiare profondamente. Ma come? In sintesi, per modificare la direzione di scorrimento del piano inclinato proponiamo che le società di capitale vengano ritrasformate in enti di diritto pubblico aziende speciali o aziende speciali consortili e indirizzate a una gestione integrata, trasparente, partecipativa dei servizi pubblici. Per la realizzazione di questa inversione di rotta è richiesta una molteplicità di azione da parte di diversi soggetti. Perché si è pensato all'azienda speciale? In primo luogo è un ente strumentale, cioè persegue i fini dell'ente, degli enti locali o territoriali che l'hanno costituita, nel caso dei servizi pubblici il benessere dei cittadini. Deve quindi attuare le linee di indirizzo approvate in sede politica ed è sottoposta al controllo pubblico. Giuridicamente è un soggetto autonomo, dotato di capitale proprio non frazionabile. Infine, nella sua autonomia imprenditoriale deve produrre efficienza per conseguire il pareggio di bilancio, ma non è orientata al profitto. Non pensiamo che l'azienda speciale rappresenti la soluzione, ma solo che possa permettere la soluzione. Infatti, questa forma giuridica e gestionale apre lo spazio per forme di partecipazione di lavoratori e cittadini, non già alla gestione ordinaria, ma alla condivisione delle scelte politiche, definizione degli indirizzi strategici, verifica monitoraggio della qualità dei servizi. Non stiamo qui proponendo forme di cogestione, ma di partecipazione correttamente intesa, partecipazione alle decisioni strategiche. A differenza del modello ACQUA, unidirezionale dal territorio alla finanza, la gestione pubblica dei servizi locali agisce in maniera coordinata e integrata, a vantaggio del territorio, dell'ambiente e di un benessere diffuso. Le risorse prodotte del territorio ritornano adesso sotto forma di investimenti nella qualificazione dei servizi. Il sistema istituzionale e la cittadinanza collaborano stabilmente con le aziende pubbliche ai diversi livelli territoriali, sia in funzione dell'equità, tariffe, sia nella determinazione della qualità dei servizi, controlli. L'efficacia di questo meccanismo dipende moltissimo dall'attivazione della popolazione. Fattore decisivo di cambiamento sono la trasparenza e la partecipazione. Indichiamo qui soltanto alcuni punti rilevanti, ma soprattutto utili a chiarire cosa intendiamo concretamente per partecipazione, senza tuttavia dimenticare la necessità di una forte mobilitazione popolare. Infatti, anche se si scrivessero le regole migliori del mondo, non si produce innovazione se non attraverso una costante attenzione e sollecitazione critica. Per dirlo con una metafora, sarebbe come una barca a vela in assenza di vento. Resterebbe ferma, con le sue magnifiche vele vuote. Quindi, mettiamoci al lavoro, perché tutto questo è ancora da fare. Grazie a tutti.